e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità o finalmente vi registro questo brevissimo video per comunicarvi le date di pagamento dell'assegno unico perché oltre alle date classiche che dopo vi dico ce n'è una in particolare che volevo comunicarvi infatti pare pare proprio che i pagamenti dell'assegno unico di gennaio sono partiti in anticipo rispetto a quanto previsto allora vediamo la data anticipata quella anticipata partirà ufficialmente da martedì 16 di gennaio infatti pare che non ci sia proprio nessun tipo di errore ma più che altro una sorpresa anche se non è la prima volta che l'inps ci fa queste sorpresone però quella della martedì 16 gennaio è stata una sorpresa poi poi comunque poi più avanti vi riterrò comunque aggiornati è perché sappiamo benissimo che l'inps ha comunicato le nuove date da adesso fino a giugno in accordo con la banca d'italia di tutti i pagamenti per chi non ha subito delle variazioni quindi non ha fatto variazioni all'interno dell'is non ci sono variazioni all'interno dell'is è che la cosa andata diciamo che la cosa andata avanti regolarmente senza problematiche e allora le tre date ufficiali sono queste qua il 17 di gennaio il 18 di gennaio e il 19 di gennaio quindi come vi ho detto nelle date dal 16 al 19 arrivano i pagamenti per tutti coloro che non hanno subito delle variazioni mentre invece poi dopo nelle date successive comunque nei giorni successivi arriveranno i pagamenti a tutti coloro che invece hanno un importo diverso hanno fatto delle variazioni all'interno dell'is è ci sono state delle variazioni per esempio all'interno del nucleo familiare oppure per chi lo richiede la prima l'ha richiesto la prima volta ecco questa questa diciamo è la regola base quindi sono contento di avervi comunicato queste date di pagamento ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così come vedete sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao grazie a tutti